Musica Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, dietro di me c'è Simona Non bel po' ormai Non bel po', questo è Battlezone 98 Redux E a quanto pare o sto giocando davvero bendato Non mi ricordo molto bene Battlezone perché è la terza volta che faccio questa missione Ovviamente è la prima volta che l'ho fatta senza registrare L'ho passata ad occhi chiusi Adesso, bu, sarà l'emozione di registrare L'emozione della registrazione Allora, siamo su Marte, il pianeta rosso E dobbiamo recuperare un manufatto alieno E fin qua tutto facile La cosa difficile è che arrivano un botto di nemici Quindi Calma Difendi il reciclatore che me l'hanno piallato prima Recupera sto cacchio di manufatto che me l'hanno fregato prima Perché mi lascia ingannare Allora ti dico Tutte le orientate nemiche eliminate E' la missione più importante che dovete affrontare Il destino del nostro paese dipende dal vostro successo qui Il CCA ci ha battuti su Marte E dopo il siasco sulla Luna Le nostre forze sono piuttosto deboli E' necessario difendere e fortificare una regione sulla superficie In modo da stabilirmi una base Il CCA ha intercettato il nostro atterraggio E ha inviato i ricognitori a controllare i nostri movimenti Stanno costruendo una base a sud ovest E si stanno aprendo a ventaglio su altre posizioni strategiche Abbiamo identificato tre aree Con sufficiente attività geotermica per costruire una base E' necessario prendere e mantenere almeno un'area Prima che il CCA controlli l'intero pianeta Abbiamo lanciato un quarto segnalatore di ricognizione fuori della base sovietica Sembrano ben attrezzati E sconsiglio un attacco diretto Buona fortuna comandante Contiamo su di voi Quindi facciamo un po' di spazzini Ci guardiamo subito all'attacco Questi qua sono tosti Spazzino presente Riciclatore presente Costruzione avviata Ok Almeno un minimo di indifesa l'abbiamo buttato giù Sì signore Sì signore Ma non mi inzottate la tua retta povero Vedete li aspira Insieme ai macarofagi li siamo fatti così Unità CCA in arrivo Comandante Unità CCA in arrivo Base sotto attacco Corretta schierata Sembra che ci abbiano trovati prima del previsto Brigatevi a proteggere quell'area Preparatevi per altre ondate di attacco Andiamo a fare attenzione che vedete In due secondi mi hanno quasi distrutto il riciclatore Una volta distrutto il riciclatore abbiamo Perus Se invece distrugono il mio veicolo Me ne posso far dare un altro Non succede niente Se uccidono me come pilota invece sono togliato Torretta schierata Costruzione completata Eccolo Wisconsin Sì signore Riciclatore presente Costruzione avviata A volte è meglio lasciarle arrivare Così abbiamo anche il fuoco delle terroette che ci difende Ok Così con due cavoli armati Uno è il mio e uno è quello che sto costruendo Sono un po' più tranquilli Unità completata Avanti un altro Vengo Riciclatore presente Rasoio presente Vi seguo capo Rasoio presente Proteggo Riciclatore presente Costruzione avviata Beh Gli altri non ci attaccano Costruzione completata Non che mi stia lamentando Riciclatore presente Costruzione avviata Costruzione completata Eccoli qua Sto andando a livello Li vedo Sto andando a mare L'ondata di attacco è stata distrutta, comandante. E noi stiamo andando ad indagare. Certo, non ho molte... Viene che adesso sono solo due, per me avevano sei a difendere uno. Generale, date un'occhiata a questo. Che diamine? Orso 1, parla il generale Collins. Adesso avete una seconda priorità nella missione. Qualunque cosa sia quell'oggetto, io lo voglio. Non so cos'è ma lo voglio. Usate la fabbrica di unità per costruire un rimorchiatore e portare quell'oggetto dal riciclatore. Chiudo. Fabbrica di unità presente. Costruzione in corso. Riciclatore presente. Costruzione avviata. Unità completata. Costruzione completata. Costruzione in corso. Costruzione in corso. Pronto per partire Carico Rasoio presente Proteggo Stai a difendere Mi faccio un po' di munizioni intanto Temo che se ne arrivano altri nemici da questo lato Riciclatore presente Costruzione avviata Costruzione completata Ormai ci ho condato di tre orette, guarda lì No i miei spazzini Cacchio No, non mi devono distruggere l'ultimo spazzino Colpiti comandante, distrutte tutte le unità di attacco Ripeto, distrutte tutte le unità di attacco C'è lo spazzino che mi vuole investire, aspetta Ok Riciclatore presente Ci attravo di voi Andiamo un attimo nel rimorchiatore Qua ci hanno fatto fare gli spazzini sembrissima Guardate, parla a Overcraft, rimorchiatore 1 Abbiamo il carico Porto il carico Mi seguo Proteggo i nostri Rasoio presente Proteggo Andiamo, 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 andiamo Veloce, veloce, veloce Ah, le stanno arrivando altri nemici da dietro Andiamo a fare subito uno spazzino Attento, uno squadrone di attacco C.C.A. si sta avvicinando da dietro Eccolo là Guarda sotto attacco 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 Ho perso la fabbrica mannaggia Si Anche se mi ha perso la fabbrica l'importante era non perdere il reciclatore E quindi ho finito la missione? Grazie Controllate l'area mi è rimasto da fare Cosa vuol dire? Devo distruggere tutti i nemici? Ammine munizioni intanto va M ok Ok va già un po' meglio così Controllate l'area cosa vuol dire? Devevo incostruire la fabbrica Costruzione avviata Costruzione completata Rasoio presente Vi seguo capo Allora arrivano altri nemici Forse dobbiamo aspettare che arrivino quei nemici lì Riciclatore presente Costruzione avviata Costruzione completata Riciclatore presente Costruzione avviata Ci sono venuti con il loro rimorchiatore Ma vabbè robero ce l'ho Pensate a che coraggio Riciclatore presente Costruzione avviata Aia Costruzione completata Vabbè però gli abbiamo fatto il mazzo Comunque Comunque Come si dice Ok Ok Abbiamo fatto Ci hanno diseggiato gli ultimi nemici Abbiamo appena intercettato una trasmissione sovietica E faccio anche la fabbrica Il balletto degli spazzini Quindi bene Questa era la prima missione sul pianeta rosso La terza missione di Battlezone Con molta fatica Siamo riusciti a completarla Continuate a seguirci Se volete vedere le altre missioni Alla prossima Ciao 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 Ciao